La Fondazione Cassa del Risparmio di Torino è lieta di partecipare alla ricorrenza dei dieci anni di attività del planetario di Pino Torinese. Quando è nato, la Fondazione CRT ha da subito investito proprie risorse per favorirne la nascita e successivamente la crescita fino ad investire 3 milioni di euro nel planetario e nel collegato Museo dell'Astronomia e dello Spazio. Lo ha fatto ritenendo che l'attività didattico e scientifica di alto profilo realizzata dal planetario sia utile per i giovani ma per tutta la comunità per sentirsi parte importante di un mondo che è più grande di quello nel quale normalmente siamo chiamati a vivere e ad operare e per elevare anche un po' lo sguardo verso orizzonti infiniti nel quale l'uomo, la persona umana è inserita.